Salve ragazzi e cari amici del web, mi trovo a Singapore e ho scoperto questo posto dove praticamente ci sono delle note e suoni, abbiamo anche il bambino Minchia, il bimbo Minchia, famosissimo bimbo Ron Picasso che è venuto qua intanto che c'ero già io ma ha rubato il giocattolo. Ok ragazzi ciao a tutti ci vediamo alla prossima, il bimbo Minchia è tornato.